dal vangelo secondo luca il servo di un centurione era malato e stava per morire il centurione l'aveva molto caro perciò avendo udito parlare di gesù gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo gesù si incamminò con loro non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli signore non disturbarti io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te ma di una parola e il mio servo sarà guarito all'udire questo gesù lo ammirò e volgendosi alla folla che lo seguiva disse io vi dico che neanche in israeli ho trovato una fede così grande e gli inviati quando tornarono a casa trovarono il servo guarito gesù guarisce il servo di un centurione romano nella città di cafarnao la città di pietro la città dove gesù passa molto tempo e ha già compiuto varie guarigioni chi è questo centurione il testo non dice il nome di questo soldato romano si dice solo che ha il servo un servo che gli è molto caro e questo servo sta per morire e si dice ancora che questo soldato romano che tiene la guarigione romana nella città di cafarnao ha sentito parlare di gesù e quindi vuole chiedergli la guarigione però come si dirà più avanti quest'uomo non si sente degno di incontrare personalmente gesù né che gesù entri nella sua casa quest'uomo conosce perfettamente le tradizioni di israele sa che per un ebreo non è giusto entrare in contatto con un pagano e tantomeno entrare in casa pagana questo centurione conosce le tradizioni e non vuole contrastarle non vuole far forza sulla sua posizione di potere all'interno di quella città è un uomo dunque profondamente sincero e umile rispettoso però usa un'altra strategia manda alcuni anziani dei giudei da gesù è una strategia che da sempre si conosce agire attraverso amici che si pensano influenti e dunque lui pensa che degli anziani ebrei possono essere influenti perso presso la persona di gesù queste persone rappresentative vanno da gesù e presentano la domanda di guarigione ma accompagnano questa domanda con una motivazione molto concreta dicono gesù guarda gesù che devi fare questa guarigione perché il centurione merita che tu lo ascolti perché ama il nostro popolo bella questa espressione in realtà il centurione rappresenta il potere dominatore il potere che esercita il suo dominio spesso con cattiveria esigendo tasse provocando sofferenza eppure questo uomo soldato viene descritto come uno che ama il popolo e non solo a parole non solo nel rispetto ma anche concretamente ha dato i mezzi ha dato i soldi per costruire la sinagoga di cafarnao è commovente questa notizia quando ancora oggi si va a cafarnao e si vedono le fondamenta delle antiche dell'antica sinagoga che esisteva al tempo di gesù si può pensare questo uomo che con i suoi soldi ha costruito pur lui non essendo ebreo la sinagoga Luca descrivendo questi pagani che girano attorno alla fede ebraica e si avvicinano alla fede nell'unico dell'unico dio pur non diventando attraverso il rito della circoncisione ebrei mostra quel bacino nel quale la primitiva comunità cristiana ha attinto molte conversioni il cammino di fede dunque può partire anche da presupposti molto concreti come quello della generosità anche se dovrà essere purificati dunque per gli anziani che parlano con gesù il centurione merita la guarigione anche se poi invece il centurione dirà non sono degno per questi uomini e gli merita la guarigione ibrano mostrerà che la direzione della fede può servirsi anche di questi presupposti molto concreti come l'elemosina per giungere alla sua maturazione il testo di fronte alla richiesta degli anziani non racconta la reazione di gesù dice solo che gesù si incammina verso la casa del centurione a questo punto quando ormai non è lontano da casa il centurione gli dice attraverso degli amici ancora una volta non parla direttamente non incontra direttamente gesù ma parla attraverso gli amici dice e il vangelo riporta le sue parole non disturbarti non sono degno che tu entri sotto il mio tetto ma di una parola il mio servo sarà guarito sono parole importanti sono entrate pur variate nella liturgia della messa quando noi diciamo prima da di ricevere la comunione o signore non sono degno di partecipare alla tua mensa ma di soltanto una parola io sarò salvato riccheggiano appunto le parole del centurione e spiega sempre il centurione questa sua richiesta partendo dalla sua esperienza militare succede così con i suoi militari ordina ed essi eseguiscono riconosce gesù come un capo al quale basta una parola per lui è sufficiente ordinare non è come gli altri guaritori che devono andare toccare in altri casi farà questo ma il centurione riconosce a gesù un potere assoluto il cammino di fede che sostiene la sua richiesta di guarigione dunque sostenuta da fatti da fattori concreti semplici sia l'elemosima l'elemosina ma anche la sua esperienza militare da questi fatti il centurione arriva a una fede forte e si affida la capacità di gesù di avere potere sul creato sulla malattia e gesù risponde con un'ammirazione fortissima neanche in israeli ho trovato una fede così grande persone che fanno parte del popolo eletto che sono nutrite dalle parole dei profeti non hanno una fiducia così grande in me neanche gli anziani giudei che erano andati a intercedere per il centurione gesù non dice niente neanche una parola non dice neanche una parola si guarito la guarigione viene raccontata attraverso l'esperienza degli inviati che tornati a casa trovano il servo guarito la guarigione dunque passa in secondo piano decisiva è la fede di questo soldato che non si è sentito degno di incontrare gesù ma che nella sua semplicità di soldato generoso ha riconosciuto la sua autorità l'autorità di gesù e si è fidato completamente di lui dopo nel vangelo non si parlerà più di questo centurione ma rimarrà la memoria delle parole di gesù parole di ammirazione gesù che si stupisce di solito si racconta nel vangelo che la gente si stupisce di gesù qui è gesù che si stupisce che è ammirato di fronte a quest'uomo umiltà vera era un capo un centurione eppure ha detto non sono degno generosità aveva mezzi certamente suo posto gli poteva procurare molti soldi eppure ha usato questi soldi per costruire la sinagoga ma anche la l'aiuto di persone si è fatto aiutare dagli anziani dagli amici e poi anche la concretezza le sue parole da portare a gesù sono basate sulla sua esperienza di militare hanno dato a quel soldato la direzione giusta per arrivare a gesù in un momento particolare di difficoltà della sua vita la malattia del servo al quale era molto affezionato questi elementi che hanno costituito il cammino di fede e che hanno permesso alla fede una direzione giusta li possiamo sottolineare e riprendere anche nella nostra vita innanzitutto l'umiltà l'umiltà per esempio quando nella messa diciamo non sono degno siamo veramente convinti di non essere degni siamo veramente convinti che non è il nostro merito che ci può donare la salvezza ma è la grazia come anche l'altro elemento avere degli amici che ci permettono di incontrare gesù che ci aiutano nell'incontro con gesù pensiamo una fede isolata o ci teniamo ai legami comunitari così anche la concretezza noi dobbiamo andare a gesù con la concretezza della nostra vita non con discorsi teorici lontani dalla nostra realtà possono e anche infine la generosità l'essere persone che fanno del bene sono elementi che possono tracciare la strada con cui rivolgerci al signore e sperimentare anche nella nostra vita se non il miracolo della guarigione fisica certamente il miracolo della guarigione interiore e spirituale di una sola parola e io sarò salvato chiediamo al signore di poter pronunciare queste parole veramente con fede